Valerio Morini non teme le levatacce Sono le 5 di mattina Nelle prove fisiche 48 km di salita Per incontrare i club di spinning in giro per l'Italia Trotte poche ne abbiamo vinte E comunque sempre pronto a dispensare consigli Grazie Morini E ad accettare le meritate ricompense Questo è l'ingegno italiano, capito? Guarda L'ospite col cucchiaino la nuova stagione Dal 3 settembre ogni domenica alle 22 in esclusiva su Pesca, canale 236 Basta Basta